oggi una nuova prova tra due vetture completamente diverse renault arcana e mazza 3 la scelta l'ha effettuata marco marco ma in che cosa consiste questa comparativa giovanni c'è presente la scena in matrix dove bisogna fare una scelta tra pilola rossa e pilola blu e che c'entra scusa beh allora come in matrix matrix ovunque e anche l'elettrificazione ovunque perché le nuove auto stanno diventando sempre più elettrificate e qui per voi abbiamo due vetture hybrid una ma il hybrid della mazza 3 l'altra l'arcana full hybrid e anche se non sembra consumano la stessa quantità di benzina così è dichiarato 4,7 litri per cento chilometri nel misto e poi due tecnologie completamente diverse qui abbiamo una tecnologia ingegnerizzata di renault le tech con che poi adesso vi spiegheremo e mentre invece sulla mazza 3 abbiamo un motore skyvattiv x con una compressione molto elevata un compressore volumetico un funzionamento del tutto particolare che altrettanto vi spiegheremo esatto quindi possiamo fare la scelta di restare con pillola rossa con carrozzeria tradizionale cambio manuale e motore mild hybrid oppure fare un salto in avanti pilola blu l'arcana motore full hybrid e carrozzeria all'ultimo grido un SUV coupè andiamo non ci resta che provarle scopriamo come si comporta prima di partire con il nostro stress test e successiva analisi sui consumi ci soffermiamo sulle principali caratteristiche di design interni e tecnologia ibrida di queste due vetture che appartengono al segmento c la mazza con carrozzeria convenzionale a cinque porte è caratterizzata dallo stile codo design che ne enfatizza le linee decisamente pulite e filanti i giochi di luce spiccano sulla fiancata e sono messi in risalto anche per il colore soul red crystal definito il rosso più bello del mondo le dimensioni della vettura si attestano su 4,46 metri in lunghezza 1,79 in larghezza e 1,44 in altezza con un passo di 2,73 metri in prova abbiamo la versione top di gamma exclusive che adotta di serie proiettori anteriori adattivi led matrix e con firma luminosa led dal posteriore l'arcana risponde alle ultime tendenze in fattore di design seguendo la moda dei SUV coupè e portando questo stile anche nel più affollato e abbordabile segmento c le dimensioni di questa vettura sono 4,57 metri in lunghezza 1,80 in larghezza e 1,57 in altezza con un passo di 2,72 metri l'allestimento è quello intermedio i tech engineered che offre il colore blu zanzibar di serie abbinato a dettagli in colore dorato warm titanium dalla lama in stile f1 sul paraurti specifico anteriore ai finti scarichi posteriori normalmente in cromo i sieri fari full led all'anteriore e proiettori led al posteriore all'interno della mazda 3 si respira un'atmosfera premium con materiali morbidi al tatto decisamente ben assemblati la posizione di guida è praticamente perfetta ma si sta seduti in basso rispetto alla concorrente tuttavia abbiamo precise regolazioni elettriche per il sedile guida oltre a quella manuale in profondità e altezza per il volante capitolo infotainment come da tradizione lo schermo da 8,8 pollice del sistema multimediale non è touch ed è posizionato lontano dal guidatore per evitare di raggiungerlo durante la guida invece la strumentazione è un misto analogico digitale con un piccolo display al centro al posto del tessuto per i sedili su questo allestimento exclusive è presente di serie la pelle di colore nero in optional quella bordeaux il caricatore senza fili per il cellulare è optional mentre di serie su arcana invece il collegamento wireless al sistema multimediale è compatibile con android e ios su mazda mentre su arcana solo con i telefoni apple gli antenni dell'arcana hanno un aspetto più moderno ma rifiniture e assemblaggi sono leggermente inferiori rispetto alla concorrente giapponese sono però presenti due schermi il primo per la strumentazione digitale da 10 pollici e il secondo che in questo caso è da 9,3 pollici per il sistema multimediale easy link questo abbiamo notato che talvolta rimane bloccato su alcune schermate più complesse cosa decisamente più rara su quello della mazda anche su questo allestimento abbiamo apprezzato le sellerie presenti di serie pelle e alcantara di colore nero con impunture in oro ma dove vince l'arcana è nell'abitabilità con un più spazio per passeggeri e bagagli in particolare è un bagagliaio di 458 litri dichiarati espandibili a 1278 mentre la giapponese nonostante i 4,5 metri di lunghezza offre un bagagliaio limitato a soli 351 litri che possono diventare al massimo 1019 abbattendosi di riposteriori infine entrambe le auto sono equipaggiate con impianti audio griffati Bose da ben 12 altoparlanti su mazda 3 e con 9 altoparlanti su arcana mazda lavorato all'interno del motore ottimizzando il rendimento a tal punto che è bastato soltanto dotarlo del sistema mild hybrid tramite l'adozione di un ISG ovvero motorino di avvamento reversibile da 7,9 cavalli alimentato da una piccola batteria a 24 volt questo non è in grado di garantire la marcia in elettrico ma sostiene il propulsore termico nelle partenze e riprese oltre ad assistere il cambio a 6 marce nel passaggio rapporto superiore evitando così contraccolpi il motore isca d'activ x è 2 litri da 180 266 cavalli e 240 newton metri di coppia grazie all'ausilio del compressore volumetrico e alla tecnologia spcc che lo fa lavorare con una miscela molto magra ovvero povera di benzina e bassi regimi e bassi carichi così da limitare o annullare l'utilizzo della candela e ottenere l'accensione della miscela per compressione come su un motore a gasolio a pieno carico o passati 4000 giri riprende a funzionare come un classico motore a benzina ovvero con accensione comandata da candela renault arcana invece è un full hybrid che si basa sul motore termico a benzina aspirato 1.16 cilindrata da circa 94 cavalli che simula il ciclo miller agendo direttamente sulle valvole per ottenere un'efficienza migliore ma a scapito della potenza è abbinato a due motori elettrici per una potenza di sistema di 145 cavalli e 148 newton metri di coppia quello principale da 49 cavalli garantisce la trazione e viene azionato da una batteria a lioni di litio da 1,02 kilowattora il secondo come quello della mazda è un isg ma da 20 cavalli che si occupa inoltre di sincronizzare i giri del motore termico con quelli del cambio automatico e tech a 6 marce che è privo di frizione e sincronizzatori capitolo prestazioni la mazda dichiara uno scatto 0 100 in 8 secondi e velocità massima di 216 chilometri orari mentre per la renault occorrono 10,8 secondi per raggiungere i 100 chilometri orari con una velocità massima di 172 chilometri orari la renault da libretto riporta 1435 kg di peso mentre la mazda 1402 noi abbiamo rilevato con 50 litri di benzina nel serbatoio un peso di 1507 kg sull'arcana e 1473 kg sulla mazda 3 i prezzi della mazda con motori esca attivi x partono da 31.700 euro per la versione executive mentre per la nostra che è la exclusive si parte da 33.050 euro invece l'arcana full hybrid allestimento tecno attacca 32.250 euro mentre con quello in prova i tech engineered si sale a 36.550 euro il test è stato effettuato su tre percorsi il primo standard di prova con un tracciato misto di 140 chilometri circa con autostrada strada statale salite discese e tratti di strada provinciale il secondo in città e il terzo in autostrada a diverse velocità per prima cosa usciti dalla redazione abbiamo subito fatto il pieno fino all'orlo del bolchettone e resettato il compiuto di bordo di entrambe le auto successivamente a breve distanza del distributore quate di via della bufalotta abbiamo verificato la corretta pressione dei pneumatici come riportato sul manuale di utilizzo c'è però da sottolineare che la mazza è equipaggiata con coperture invernali che potrebbero peggiorare leggermente i consumi mentre la renault monta pneumatici estivi tuttavia l'impronta terra la medesima con un battistrata di 215 su cerchio da 18 pollici a differire invece la spalla da 45 sulla mazza 3 e 55 sull'arcana partiamo quindi alla volta del lago del turano percorrendo i primi 20 chilometri in autostrada 1 a 180 chilometri orari di cruise control dove tutte e due le vetture segnano 6,8 litri per 100 chilometri di consumo medio qui però notiamo due cose su arcana cominciano a sentirsi frusciere dei nemici superati 100 chilometri orari mentre mazza 3 è in generale più silenziosa poi una curiosità per viaggiare alla stessa velocità sulla francese siamo a 128 chilometri orari indicati mentre sulla mazza a 130 al trentesimo chilometro imbocchiamo la strada satale salaria che affrontiamo in leggera salita a 70 chilometri orari con la mazza 3 che viaggia in sesta anche a mille giri mentre l'arcana alterna la marce in elettrico con quella in modalità ibrida nel misto guidato la mazza si distingue per la sua maneggevolezza e il piacere di guida inserimento in curva è diretto complice un assetto e la spalla del pneumatico ribassati ma anche un comando di sterzo più preciso arcana invece con l'altezza da terra di 19 centimetri e la spalla da 55 dei pneumatici ha un leggero ritardo di risposta in ingresso curva ed è meno votata la guida sportiva mentre privilegia un utilizzo turistico dopo 47 chilometri le differenze di consumo indicato sono davvero minime arcana riporta 5,3 litri per 100 chilometri mentre la mazza 3 segna 5,4 differenza che verrà pareggiata dopo 13 chilometri salendo da poggio moiano dove sul punto manoramico entrabbe le vetture riportano un consumo di 6,1 litri per 100 chilometri con la batteria completamente ricaricata in discesa verso il bivio della turanense l'arcana riesce a proseguire per tutto il tratto pianeggiante del lungolago in modalità 100 per cento elettrica ovvero per circa 5 chilometri mentre la mazza 3 si difende viaggiando in sesta circa 800 giri minuto a 50 chilometri orari questo consente di pareggiare praticamente i conti con quest'ultima che segna 5,6 litri per 100 chilometri e arcana che si ferma a 5,5 a questo punto ci troviamo a castel di tora da qui torniamo indietro e affrontiamo lo stesso percorso al contrario dopo circa 20 chilometri anche con forte salita e successiva discesa ci fermiamo nel punto più basso prima di riprendere la salaria sulle ali cinese qui ancora un testa a testa tra le due vetture con l'arcana che segna 5,3 litri per 100 chilometri e la mazza 3 che segue a 5,4 al termine dei successivi 20 chilometri di salaria in discesa i consumi si abbassano ancora raggiungendo il minimo della giornata con l'arcana che arriva a 4,7 litri per 100 chilometri e mazza 3 a 5 percorriamo stavolta l'autostrada 1 per altri 20 chilometri verso roma alla media di 110 chilometri orari e leggiamo un consumo istantaneo di 7,5 litri per 100 chilometri sull'arcana che però alterna continuamente l'elettrico al termico e 5,4 sulla mazza 3 alla fine della prova su 138 chilometri totali percorsi l'arcana ne segna circa 4 di meno rispetto alla mazza 3 che è in linea invece con il gps per quanto riguarda il consumo medio finale viene indicato 4,8 litri per 100 chilometri sulla prima e 5,1 litri per 100 chilometri sulla seconda prova verità a rabocco per esso il benzinaio dove la renault imbarca 6,73 litri di benzina contro 6,64 sulla mazza a fronte di un consumo ricavato dal computer di bordo di 6,64 litri sulla prima e 7,06 sulla seconda il secondo giorno ci siamo dedicati a registrare innanzitutto il consumo in ambito urbano percorrendo circa 15 chilometri nel traffico romano della mattina con una velocità media non superiore ai 20 chilometri orari con un continuo start and stop dove al massimo abbiamo inserito la seconda e differenze sono subito emerse con l'arcana che indica 4,8 litri per 100 chilometri mentre mazza 3 riporta praticamente il doppio con 7,8 litri per 100 chilometri rabbocchiamo e scopriamo che in realtà il consumo è nettamente superiore ovvero rispettivamente 11,3 e 14,7 litri per 100 chilometri dal distributore ripartiamo e prendiamo la strada statale aurelia con cruise control settato a 90 chilometri orari in questi 20 chilometri percorsi le cose si appaiano con la reno che riporta 4,3 litri per 100 chilometri e la massa che scende a 4,9 litri per 100 chilometri in realtà il consumo rilevato la pompa è stato di 6,5 e 7,3 litri per 100 chilometri proseguiamo quindi su autostrada a 12 a 130 chilometri orari fissi per circa 30 chilometri verso santa severa qui la massa si riscatta con un consumo di 6,3 litri per 100 chilometri mentre arcana stavolta sale a 6,7 in realtà entrambe hanno consumato meno misurando al distributore la quantità di benzina rifornita si scopre che la giapponese si attesta a valori reali di 4,9 litri per 100 chilometri contro i 5,9 della francese rifatto il pieno torniamo indietro sempre su autostrada guidando però 80 chilometri aeri costanti per 29 chilometri qui ritorna in vantaggio l'arcana che indica 4,2 litri per 100 chilometri contro i 4,4 della mazda 3 a rabocco scopriamo che il consumo effettivo è stato di 4,3 litri per 100 chilometri per l'arcana e 6,3 per la mazda da questo test emerge l'impressionante lavoro di mazza sulla tecnologia del motore isca tvx che nonostante sia più potente di 40 chevalli e con maggiore cilindrata riesce comunque a tenere testa una vettura full hybrid come l'arcana questi consumi ridotti tra 18 e 20 chilometri al litro di media sono simili a quelli di un motore diesel e testimoniano il progresso tecnologico dei motori a benzina che hanno anche fortemente abbattuto le emissioni allo scarico siamo arrivati al termine di questa prova particolare una comparativa voluta da marco nella quale abbiamo messo a confronto due tecnologie ibride una mile hybrid e una full hybrid mazza 3 sky watt tvx con una tecnologia sul motore che ha permesso di ottenere un elevato rapporto di compressione un'elevata efficienza del motore benzina e una quindi ha permesso anche una riduzione come abbiamo visto notevole dei consumi la renault arcana invece ha un ibrido più evoluto la tecnologia e tech di renault questa vettura non è non è plug in quindi ha un'autonomia in solo elettrico molto limitata ma ha questo motore che ti aiuta tantissimo nelle fasi di riprese nelle fasi di accelerazioni esatto quindi giovanni cosa ci è piaciuto tra la pilola rossa e la pilola blu sediamo un po allora è la scelta difficile a seconda diciamo degli usi e dell'utente finale la mazza 3 è una vettura che ha una guidabilità migliore un handling perfetto tra le curve è maggiormente è più silenziosa ti dà il pieno controllo di gestire la vettura quindi ha un cambio manuale quindi quando scali le marce il motore lo metti a determinati giri rimane a quel numero di regime di rotazione invece l'arcana diciamo con questa tecnologia i tech autogestita lei decide quando andare in elettrico o accendere il motore termico però ha anche dei pregi che non ha ovviamente la mazza 3 che è quella che ti permette appunto di camminare in solo elettrico ti permette di viaggiare di uscire dai box in solo elettrico in totale silenzio è una vettura più alla moda il segmento c a cui fa parte la mazza 3 si è evoluto e diciamo che ci sono adesso tutti i suv quindi abbiamo una c suv dove rientra l'arcana a me invece è piaciuta sicuramente la guidabilità della mazza come dicevi mi piace lo sterzo che è un pochino più diretto e anche la corona del volante della mazza l'ho trovata più adatta alle mie mani quello dell'arcana invece un pochino più cicciotta ma questo appunto sono preferenze personali visibilità anche diciamo l'arcana è migliore perché si ha questa posizione di guida rialzata ma poi ti trovi un montante uno specchietto importante che anche aumentano i frusci aerodinamici abbiamo sentito già a partire dagli 80 chilometri orari sull'arcana mentre la mazza fino a 100 chilometri orari non senti praticamente nessun fruscio vantaggio anche dell'arcana poi ricordiamo la gomma con la spalla più alta che ti potrebbe dare un vantaggio per esempio nel nello sterrato oppure su qualche buca tuttavia a proposito di diciamo sospensioni e di comfort sullo sconnesso abbiamo effettuato una prova particolare abbiamo trovato un terreno ideale dove esaggiare entrambe pieno di radici le sospensioni mazza con una spalla più bassa arcana con una spalla del pneumatico più alta però abbiamo riscontrato che comunque l'arcana tendenzialmente una sospensione più rigida e questo si avverte soprattutto nello sconnesso veloce dove ci sono dei rapidi passaggi o delle buche secche mentre invece la mazza 3 è più morbida diciamo che una maggiore rigidità su un suv è dovuta al fatto appunto di mantenere in equilibrio una vettura con un baricentro tendenzialmente più alto esatto quindi se noi sicuramente hanno lavorato un po sulle barre antirolio ma anche sulla molla per evitare troppo coricamento laterale mentre la mazza 3 non è bisogno e può adottare delle molle più morbide che si rivelano anche confortevoli ea chi sono indicate che le possiamo consigliare allora mazrate sicuramente per chi preferisce appunto essere in controllo della vettura a chi gli piace una guida più sportiva magari non tanto una famiglia a cui consiglierà invece l'arcana che più spaziosa quindi magari un singolo o una coppia possono optare per la mazza 3 anche perché non ha un bagagliaio così capiente a differenza di quello dell'arcana prima di salutarvi una chicca guardate le targhe giovanni mancini e marco paternostro la nostra prova si è conclusa speriamo che questa comparativa vi sia piaciuta abbiamo tirato fuori dei dati interessanti che potete anche trovare nel dettaglio più approfondito sul sito newsauto.it a te marco l'ultimo saluto beh diciamo che la cosa incredibile è che lavorando all'interno del motore quindi andando aumentare l'efficienza di questo motore 2 litri mazza riuscita a ottimizzare appunto il consumo andando a risparmiare addirittura il 20 per cento rispetto allo sky active g da cui deriva e questo comunque è un ottimo risultato perché abbiamo visto che anche con un mild hybrid leggero con un motore più potente 186 cavalli contro 145 praticamente riesce a consumare lo stesso di quanto registrato sull'arcana che invece è un full hybrid quindi complimenti a mazda che è riuscita comunque a ottenere un ottimo risultato pur non adottando una tecnologia sofisticata come quella dell'ibrido full un saluto ricordatevi di mettere un like al video commentate e questo ci fa molto piacere un saluto giovanni marco ciao alla prossima prova